Luca Ciarla, stasera veramente un gran finale di Adrifest, veramente una perla, siamo riusciti a portare qui un Grammy Award. Beh sì, un onore, devo dire completamente poi, l'abbiamo sentito il Grammy Award delle note del pianoforte, un livello straordinario, un'intensità, una passione, un tocco, raro, raro, io non sono particolarmente attaccato ai premi, all'importanza, insomma noi musicisti di solito diamo più valore all'ascolto, a quello che sentiamo, ma il Grammy ha un suo valore, devo essere sincero, insomma, non a caso leggevo la lista degli ultimi italiani che l'hanno vinto, Carlo Maria Giulini, Agno Morricone, Riccardo Muti, insomma, vorrà dire qualcosa. Adrifest continuerà? C'è qualche anteprima? Sì, io ricorderai, organizzavo tanti anni fa, negli ultimi due anni abbiamo ripreso, ma è un percorso lungo e che vorrei evolvere pian pianino in qualcosa di sempre più forte, ecco, inglobando anche eventi sul Gargano, sulle Tremiti, chiaramente avendo Termoli Larino come perno centrale. Abbiamo in programma un evento in primavera per presentare poi il festival estivo che dovrebbe appunto inglobare anche il Gargano, ecco, me lo auguro.